Santina! Santina! Oddio, scusate, scusate. Il ciuffo, il ciuffo! Oddio, eh, Giovanni, non vado dal barbiare nemmeno io. Allora, scetti, buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del TG USA. Quel che vuol dire stasera ve lo metto qui sotto perché tanto ormai si sa, non cominciamo subito, va? Che è meglio. Un TG satirico tutto made in Arezzo, loro sono i Gianduiotti, un gruppo cabarettistico nato attraverso le edizioni della scorrida organizzata a Castiglion Fibocchi. Il loro direttore, non a caso, è Francesco Duranti. Io sono molto felice, purtroppo ne manca uno dei componenti del gruppo. Abbiamo creato insieme questo TG che tiene compagnia in questo momento di quarantena che non ne possiamo più, tutto questo stare in casa non ce la facciamo più, tiene compagnia le persone che sono a casa nelle loro grandi capacità. Ecco, è un progetto che nasce dietro anche alle edizioni della scorrida. È un progetto che nasce dietro alle edizioni della scorrida. Quest'anno, purtroppo, probabilmente la scorrida non ci sarà. Però non è detto che non facciamo qualcosa di diverso a distanza. Questo non è detto. Magari qualche scorrida virtuale con i video che... Chissà, loro nella mente hanno tante cose, tante iniziative. Vorrei che inventassero anche, chissà, una corrida virtuale a distanza. Sono sempre più fantasiose le scuse inventate dall'Aretini pur di scappare di casa. La prima su tutti è senza dubbio un grande classico, ovvero vado dall'amante. Noi abbiamo pensato, quando poi Francesca ha detto bisogna annullare tutti gli appuntamenti, tutte le cose esterne che dovevamo fare, abbiamo detto ma perché non le facciamo da casa? Quindi inventiamo qualcosa studiando gli Aretini, quello che fanno a casa, perché poi abbiamo preso spunto e i video vengono dai TikTok e dai vari video che fanno in casa gli Aretini di tutte le età e quindi da lì abbiamo preso spunto i personaggi, la giornalista che parla a Aretino, la Santina, poi c'è Orazio, il cinghialaio, nato così, da una tombola fatta in casa tra di noi e abbiamo vinto questa divisa del cinghialaio di Molinelli e quindi è venuto questo Orazio, fuori il nome, che è il gatto grasso di una mia collega. Quindi sono tutte cose nate un po' così. E dopo lui l'ha detto al montaggio, al monitoraggio di tutti i personaggi, della sequenza e quindi io passerei la parola alla Santina di Monte. Sì, comunque diciamo che fra tutti e tre sono quello che fa il lavoro sporco, perché fino alle tre la notte sono lì a montare per essere pronti il giorno dopo, no? A parte scherzi, questa cosa è nata diciamo prima di tutto per stare insieme, anche da lontano. Oggi con Davide si è fatto il conto, erano 49 giorni che non ci vedevamo, quindi solamente usando, utilizzando la tecnologia, meno male che c'è, insomma. Però ecco, innanzitutto, ripeto, questa cosa è nata per stare insieme anche da lontani e poi vabbè i temi affrontati, come sempre, quando si parla di comicità, sono argomenti d'attualità, un po' la politica, un po' eventi particolari, un po' di invenzione, ecco. E poi questo mix crea qualcosa. E in più la cosa importante, anche da sottolineare, è il fatto che cerchiamo anche di integrare nel nostro TG gente esterna, non è un TG solo nostro. Quindi cerchiamo anche amici, parenti che vogliono partecipare, che vogliono fare qualcosa di carino e noi li inseriamo nel nostro TG. Sì, perché poi i nostri personaggi vengono anche da chi ci circonda, veniamo tutti e tre da paesi. E quindi ci sono i tipici vecchini che erano abituati ad andare al bar, a ritrovarsi tutti, a giocare a carte, che si tocca stare in casa con la vantaggio e la trattano ancora peggio di prima. Quindi noi si è fatto, senza offendere nessuno, nomi casuali completamente, quindi anche, voglio dire, non c'è riferimenti a cose o persone, sono puramente casuali. Però, voglio dire, si è cercato, perché la gente ha bisogno di ridere, in un momento delicato come questo, in un momento dove già c'è tristezza, perché bisogna stare nell'oscurità della casa e di chi, pensiamo, non ha nemmeno il giardino, non può nemmeno uscire per una boccata d'aria, bisogna ridere, perché si sta perdendo anche il senso dell'ironia e il senso dello stare insieme anche distanti. Quindi questo noi siamo riusciti a fare, siamo contenti di restare insieme anche distanti. Il Tg USA, da ora in poi, farà parte anche del palinsesto di Arezzo TV ed in particolare chiuderà tutte le puntate dell'edicola di Piero. E anche per oggi questa era l'ultima notizia del nostro Tg USA che ritorna domenica prossima. Un ringraziamento a tutti i nostri inviati, a tutti i nostri ospiti da parte di Gianluiotti e del direttore Francesco Duranti. Ma prima di lasciarci vi faccio vedere un messaggio del nostro presidente Conte. Ciao a tutti! Volevo ricordare inoltre, perché sono sicuro e fiducioso che gli amici tedeschi se lo ricordino bene, che il cielo è azzurro sopra Berlino. Il cielo è azzurro sopra Berlino!